Allora, grazie a tutti, grazie al Ministro Giuseppe Valditara, grazie mille, Ministro dell'Istituzione del Merito, adesso poi parleremo anche di questo merito, benvenuto a Direzione Nord, prego sediamoci. Abbiamo avuto un inizio col botto, abbiamo avuto il Governatore Attilio Fontana, il Ministro Picchetto Fratin e adesso abbiamo lei, credo che funzioni? Ok, sì, dovrebbe essere acceso. Allora, Giuseppe Valditara, li trovate anche qui fuori sui banchetti, ha scritto due libri, uno da solo, direi più accademico, se vogliamo, anche se molto profondo, Alle radici romane della Costituzione, Persona, Famiglia, Stato, Proprietà e Libertà, che poi sono parole molto importanti, e poi un altro che oggi ci concentreremo un po' di di più, insieme ad Alessandro Amadori, è l'Italia che vogliamo, il manifesto della Lega per governare il Paese, che insomma già dal suo titolo è alquanto esplicativo, quasi perentorio, impegnativo, sì sì, decisamente impegnativo. Allora, visto che poi però questo libro qui ovviamente è stato scritto ben prima che lei fosse nominato Ministro, io ho cercato di coglierne un po' alcune parti per poi ricondurle al, diciamo così, al suo pensiero, ma anche alla sua delega. Allora, lei come primo atto, diciamo così, pubblico un po' sui giornali è uscito con una questione legata al muro di Berlino. Però nel libro parla proprio lei diffusamente del muro di Berlino come un momento interessante, perché da lì nascono anche i movimenti identitari, no? Di quali peraltro uno è anche la Lega. Quindi quello è proprio un momento particolare e mi ha colpito che lei abbia usato quella prima occasione per iniziare a mettere un po' di contenuto nella sua delega. Inizia in maniera un po' alta, poi magari andiamo anche a parlare del resto. Ma dunque, tanto mi sentite, eh? Sì, sì. Benissimo. Il 1989, il crollo del muro di Berlino, ma già prima l'apertura del governo cinese al commercio al libero commercio e poi più in generale il crollo dell'impero sovietico, hanno liberato energie, hanno creato un contesto del commercio internazionale che coinvolgeva centinaia di milioni, miliardi se si considera anche la Cina, se si considera anche l'est asiatico prima egemonizzato, diciamo, dal comunismo, hanno liberato miliardi di persone che sono entrate nel grande commercio internazionale. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato fra l'altro tutta una serie di conseguenze, conseguenze per esempio sulla necessità, innanzitutto per le nostre imprese, di competere su nuovi scenari, nuovi scenari che fra l'altro si avviavano verso una fortissima deregolamentazione, penso appunto al modello cinese, e quindi la capacità di competere delle imprese lombarde, delle imprese venete, era sempre più parametrata con la competitività delle imprese bavaresi, delle imprese catalane, cioè insomma si spostava la competizione ad un livello molto più alto e molto più forte. Questo contestualmente al diffondersi della globalizzazione, contestualmente al diffondersi del fatto che schiacciando un pulsante si trasferivano risorse, si trasferivano risorse finanziarie da un capo all'altro del mondo. In un contesto di questo tipo è chiaro che si poneva anche il problema, il tema del federalismo, si poneva il tema della capacità di uno Stato di essere sufficientemente flessibile per favorire la competizione internazionale delle imprese delle proprie regioni. Uno Stato eccessivamente ingessato, uno Stato eccessivamente centralista non avrebbe favorito le proprie imprese soprattutto in quelle aree più dinamiche del Paese. Ecco perché la Lega ha preso forza proprio in quegli anni, perché era in qualche modo portatrice di una grande visione liberale, di una grande visione di sburocratizzazione, di semplificazione, di abbattimento di quei lacci e lacciuoli che ingessavano i produttori innanzitutto nella produzione, produzione nazionale, ma anche, ripeto, nella competizione internazionale. Quindi io credo che lì siano maturate le premesse per la esplosione di quella proposta liberal-federalista che fu la prima la Lega a interpretare. Perfetto. Leggo, questo era un grande, che gli italiani siano capaci di emanare leggi di riforma, ci credo senz'altro, lo scriveva Montanelli nel 99. L'Italia è la più grande produttrice di regole, ognuna delle quali una riforma è la riforma di un'altra regola. Ora, da che io sono andato a scuola, abbiamo avuto la riforma Berlinguer, la riforma Moratti, la riforma Prodi, la riforma Gelmini, la riforma Renzi-Buona Scuola e la riforma Buona Scuola-Bis. Ci sarà una riforma valditara della scuola? Ma a me francamente interessa poco che ci sia una riforma intestata al mio nome. Io ho una strategia riformatrice molto ampia, perché la scuola italiana ha bisogno di tanti passaggi importanti. Ma vi cito un tema che è all'ordine del giorno e che so sta molto a cuore anche agli operatori scolastici, tutti, cioè dal dirigente scolastico al personale di segreteria ai docenti, ma in fondo sta a cuore persino alle famiglie. E cioè il tema della sburocratizzazione, della semplificazione, il peso eccessivo di tutta una serie di adempimenti, di oneri, di regole sugli operatori della scuola. E poi c'è la grande sfida, questo solo per citare alcuni temi, la grande sfida della filiera dell'istruzione tecnico-professionale. Abbiamo ora gli ITS, dobbiamo sostanziarli, dobbiamo farli esplodere. Non dimentichiamoci mai che il sistema produttivo tedesco, per tornare al tema della competitività, ha 900.000 ragazzi che frequentano la formazione tecnico-superiore. Noi all'anno scorso erano 20.000. Ma dobbiamo avere il coraggio di costruire una filiera che vada dalla formazione professionale sino agli ITS. Dobbiamo far sì che l'istruzione tecnico-professionale sia, divenga un percorso formativo di serie A e non un percorso formativo di serie B come è stato purtroppo, per troppo tempo considerato. E tra l'altro mi piace anche ricordare che abbiamo sbloccato proprio nei giorni scorsi con un grande accordo con tutte le regioni italiane, approvato all'unanimità, cosa non sempre facile, che attribuisce 500 milioni di euro proprio per i laboratori, sono soldi previsti dal PNRR. Poi c'è il tema dell'edilizia, il tema dell'edilizia scolastica, su cui io insisto parecchio, commemoreremo a breve un evento drammatico. Ecco, queste tragedie non devono più avvenire. Noi dobbiamo lanciare un grande piano per l'edilizia scolastica. Abbiamo il tema dei talenti. Non voglio rubarle le domande, ma visto che lei sta zitto... No, 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 allora la interrompo e le faccio questa domanda, visto che si parla di talento. Come si sposa, e qui cito un capitoletto del suo libro, una scuola che non lascia indietro nessuno con il concetto di merito? Perché si sposa, ovviamente, ma aggiungo un pezzettino. Nell'ultimo periodo sui giornali, una polemica molto giornalistica, non riguardo ovviamente la sua delega perché lì si trattava di un'universitaria che ha chiuso un corso di studi un anno prima, però questo ha dato l'inizio a una riflessione su quello che è, l'hanno chiamato l'arrivismo tossico e a volte ci si confonde il merito con l'arrivismo tossico con la libera scuola e si fa un gran calderone di casino. Allora, ridipaniamo un attimo questi tre concetti che sono molto differenti per piacere. Ma guardi, parto da una premessa, che io sono un liberale o quantomeno credo nella libertà e questo è un paese che quando vede, faccio un discorso più generale, quando vede una persona che ha successo nella vita si scatenano gli invidiosi, quando vede una persona che guadagna tanti soldi si scatenano gli invidiosi, quando vedono una persona, una studentessa, poi io non conosco la vicenda, ma quando vedono una studentessa che è molto brava si scatenano gli invidiosi. Io disprezzo l'invidia, proprio detesto l'invidia. E' un pessimo sentimento. Io credo invece che noi dobbiamo lanciare una grande sfida. Perché questa scuola, purtroppo, è la scuola del classismo. Cosa vuol dire la scuola del classismo? Allora, vi cito solo un dato. Dagli anni 50, gli anni della ricostruzione, al 75 in Italia si è messo in moto un grande ascensore sociale. Cos'è questo benedetto ascensore sociale? La possibilità che un ragazzo che nasceva o nasce in una famiglia di modeste condizioni economiche riuscisse a farcela nella vita, riuscisse dunque ad ascendere, a cambiare status sociale. Dal 75 questo ascensore si è bloccato. E oggi, 2022, i dati ci dicono che siamo tornati al 2020. Abbiamo fatto un passo indietro di 22 anni. Pensate un po'. Allora, la vera grande sfida è quella di valorizzare i talenti, di tirar fuori, no? Socrate, la maieutica. Di tirar fuori le abilità che in ciascuno di noi dimorano. Abilità che possono essere astratte, abilità che possono essere concrete. Vedete, la vera sfida è una scuola che valorizzi le straordinarie potenzialità che ciascuno di noi ha dentro. Che magari non necessariamente sono potenzialità nella matematica o nell'italiano, ma magari, l'esempio che io faccio sempre, no? Di quel mio amico che era bravissimo a costruire da un copertone di un camion, un copertone dismesso a costruire delle fioriere fantastiche, quel ragazzo aveva un'intelligenza forse superiore alla mia che apprendeva 8 in latino e greco. Ma quel ragazzo, se avesse avuto un percorso formativo adeguato, anziché finire la sua vita in modo misero, avrebbe avuto un grande successo. E allora diamo un altro dato che non ricordiamo mai o che ricordiamo poco. Dati di Union Camere ci dicono che il 45% delle richieste lavorative delle imprese va disatteso perché mancano qualifiche adeguate. 1.200.000 posti di lavoro, 1.200.000 posti di lavoro non vengono coperti per mancanza di qualifiche adeguate. Ecco allora la grande sfida, riformare la scuola perché quelle qualifiche, quei posti di lavoro vengano occupati, perché anche quel ragazzo che magari non ha il bernoccolo della matematica riesca a realizzarsi in altro modo. E anche perché no, dare una prospettiva a quel ragazzo che invece si annoia perché ha uno straordinario bernoccolo della matematica, perché possa accelerare, come la ragazza del San Raffaele per esempio. E allora una scuola dove ci sia un insegnante particolarmente formato che insieme, non gerarchicamente sovraordinato, io non voglio la gerarchia, voglio la collaborazione, voglio lavorare insieme, lavorare in team, ma ci sarà chi sarà particolarmente formato che collaborerà con gli insegnanti della classe per venire incontro a quei ragazzi che hanno più difficoltà, per aiutarli a tirar fuori i loro talenti. Ecco allora una scuola che si occupi di valorizzare la persona umana. E in questo mio libro io cito 19 volte la parola merito e cito tante volte la persona, il termine persona, persona, che è il pilastro della nostra Costituzione. Allora, le dico una cosa personale. Io sono figlio di un insegnante, adesso in pensione. Pure io. Perfetto, quindi siamo in due. E mio nonno faceva il contadino, quindi non c'era chance. Non fosse stato per, non solo per una famiglia che l'aveva sostenuto, mio padre è l'unico che ha studiato, ma anche per uno Stato che almeno ai tempi, stiamo parlando degli anni 50 e 60, dava le borse di studio. Una cosa antichissima la borsa di studio, perché oggi quasi, forse non è opportuno tornare anche a un sistema di premialità. Poi parliamo anche di invece dove bisogna utilizzare il bastone. Le borse di studio sono previste dalla nostra Costituzione e io intendo applicare, attuare puntualmente la nostra Costituzione. E quindi stiamo ragionando anche su un progetto per attuare la nostra Costituzione proprio in tema di borse di studio. Per i capaci e i meritevoli. C'è il merito. Adesso invece parliamo dell'autorevolezza che porta a un problema grosso. Lei scrive, c'è bisogno innanzitutto di insegnanti autorevoli. L'autorevolezza dipende da due elementi spesso, anche se non sempre, connessi fra di loro. La riconosciuta qualità del docente e il rispetto degli studenti nei suoi confronti. Ora, io ho fatto le scuole negli anni 80 e 90 e mai mi sarei sognato di andare a tirare uno schiaffo a un professore e da genitore oggi mai mi sognerei di andare da un professore a tirargli uno schiaffo perché magari mia figlia si è preso un cattivo voto. Più probabile che lo schiaffo lo tira mia figlia. Ma lei ha detto che occorre ridare efficacia ed educativa alle sanzioni disciplinari. Occhio che però questo qui è un tema molto delicato. Però come si risolve? E così non si può andare avanti. Allora, io credo che, lei ha detto molto bene, così non si può andare avanti. Sono tanti gli episodi. Ma poi non ci sono solo gli episodi più eclatanti che vanno sui giornali. C'è anche quello stress quotidiano dell'insegnante che si trova a gestire una classe difficile. Io ricordo quando ero assessore provinciale qua a Milano, quello era il 2000, quindi pensate, sono passati 22 anni. ero entrato a visitare alcune classi, l'insegnante stava spiegando, davanti a pochi eletti, in fondo alla classe altri studenti giocavano a pallone. Io, confesso, rimasi un po' perplesso. Allora, noi dobbiamo puntare innanzitutto su due temi fondamentali. L'autorevolezza, cioè ridare autorevolezza ai docenti e il rispetto. Il rispetto verso i docenti, il rispetto verso gli studenti, il rispetto verso i beni pubblici. E c'è tra l'altro anche una bella lettera dei docenti del liceo Tasso di Roma che parla proprio di rispetto dei beni pubblici. Benissimo il dialogo studentesco, benissimi i dibattiti organizzati dagli studenti, ma i beni pubblici vanno rispettati. Quando ci sono 500 mila euro di danni in una scuola a seguito di occupazioni, io credo che qualcosa sia andato per diverso sbagliato. Il tema dell'autorevolezza è un tema che va affrontato da tanti punti di vista. Responsabilizzando le famiglie, prevedendo anche, come dire, delle forme diverse di sanzioni nei confronti di quegli studenti che non hanno la capacità di rispettare le regole e di essere responsabili. Beh, una cosa che mi è sembrato sempre molto educativo sono i lavori socialmente utili. Ma si deve riflettere, ovviamente. E poi c'è il tema anche dei docenti che devono essere consapevoli, sempre consapevoli dell'altissimo ruolo che sono chiamati a svolgere. L'autorevolezza passa anche da un miglioramento retributivo. Abbiamo cercato di fare qualche cosa, è ancora poco, ma certamente è il più importante rinnovo contrattuale da tanti rinnovi contrattuali a questa parte. Oggi leggevo che la Cisla ha calcolato in 124 euro al mese in media. È il più alto, credo, negli ultimi certamente 15 anni. Ma forse si può andare anche più in là. Detto questo, vi annuncio che ho creato un tavolo proprio per trovare delle soluzioni. Perché questo è un tema che merita delle soluzioni. Che poi siano anche la didattica personalizzata, che siano anche l'intervento dello psicologo, che siano anche sanzioni più efficaci, che siano anche la chiamata a responsabilità dei docenti, che siano anche come qualcuno ha proposto, e non è una proposta peregrina, di aumentare le sanzioni laddove l'atto penalmente rilevante sia commesso nei confronti di un insegnante. insomma, io credo che noi dobbiamo impegnarci seriamente con un intervento a 360 gradi perché così non si può più andare avanti. Ricordo quando io ero un bambino che il maestro era il maestro con la M maiuscola, era il signor maestro, il professore, il signor professore, e noi stavamo in religioso silenzio. e quando io tornavo a casa e dicevo sai, la maestra che vuole tanto bene al mio compagno mi ha discriminato perché il mio compagno, mio padre o mia madre, diceva no, ha fatto benissimo, ha fatto benissimo a darti la nota, ha fatto benissimo a darti un 6, 5, l'ho preso una volta sola, vabbè, insomma, ha fatto benissimo a non valorizzarti in quel momento perché non te lo meritavi. Ecco, mio padre e mia madre mi davano delle regole, mi educavano alla responsabilità. Rimaniamo su questa questione del... però la estremizziamo, perché a volte ci sono bravi ragazzi che poi magari in classe fanno quello che non devono fare e poi ci sono i bulli che sono tutt'altra cosa. Lei scrive il bullo è consapevole del male che arreca con le sue azioni, ma questo non lo ferma. Orbene, un bullo infra-14enne, quindi di 14 anni, ammesso che arrivasse al cospetto di un tribunale, sarebbe sempre comunque riconosciuto non responsabile per legge. E questo è un non senso, sia sul piano scientifico che su quello della prassi quotidiana. Noi viviamo in una città, Milano, che ha tantissimi pregi. Io adoro Milano, come credo tutti, l'adorano tutti i milanesi, ma anche un po' di problemi legati soprattutto nel post-pandemia a episodi di bullismo, ma anche a episodi di violenza che se non sono fatti da 14 anni, magari sono fatti da 16 anni, 17 anni, ma li vediamo, a volte hanno anche conseguenze molto gravi. Molta di questa violenza passa, non perché viene fatta, magari a volte anche viene fatta, ma passa per un deficit educativo e per, io credo anche mancanza, forse della struttura scolastica, oltre che educativa da parte dei genitori. Ma cito due esempi, intanto partiamo dalla scuola, cito due esempi che riguardano episodi di bullismo anche grave. Un esempio che mi ha colpito favorevolmente di un istituto tecnico di Gallarate, dove all'indomani di un atto di violenza compiuta da uno di questi ragazzotti, un bullo già responsabile di altre attività di tipo aggressioni, violenze verbali, minacce. Bene, il preside, il dirigente scolastico, ha riunito duemila ragazzi, gli ha voluti responsabilizzare con un discorso molto duro, ma anche molto maturo, ha parlato ai loro cuori, ha parlato alle loro menti e mi raccontava lui ha avuto un grande successo. In un'altra scuola, di un'altra regione, di fronte a un episodio analogo, il dirigente scolastico non ha preso alcun provvedimento, non sono stati riuniti i ragazzi, non si è discusso nelle classi, non si è fatto nulla praticamente, forse si sarà presa una sanzione, si sarà sospeso per qualche giorno il ragazzo autore e basta. Ecco, questi sono due modelli antitetici, la chiamata responsabilità, il fatto che le istituzioni non passano oltre, non se ne lavano le mani, ma chiedono anche il coinvolgimento di quello che è essenziale nella repressione delle devianze, il controllo sociale, la stigmatizzazione pubblica, questo ragazzo ha compiuto un atto assolutamente da condannare, questo ragazzo ha sbagliato e nessuno, nessuno è legittimato a dire no, ma questo ragazzo in fondo magari poteva avere le sue motivazioni, questo ragazzo ha sbagliato, questo preside è stato un grande educatore. Poi c'è il tema delle famiglie, il tema delle famiglie è che sono di due tipi, le famiglie disastrate, sfasciate, dove lì c'è un grande problema di servizi sociali, probabilmente anche di psicologo, e invece le famiglie benestanti che sono magari disinteressate al comportamento dei figli, al percorso scolastico dei figli, tutte prese magari nel lavoro, nella realizzazione professionale. ecco, io credo che il coinvolgimento delle famiglie sia centrale, dobbiamo studiare dei modi efficaci, perché queste parole non siano solo chiacchiere, ma dobbiamo studiare dei sistemi concreti, efficaci, perché le famiglie non possono più disinteressarsi di un proprio figlio, devono essere anche aiutate. E poi c'è il tema della responsabilità, io mi sono chiesto, è stato sospeso per un anno quel ragazzo, giustissimo, ma se ci si limita a sospendere per un anno, il rischio è che quel ragazzo vada poi a fare altri, fuori dalla scuola, altri atti di teppismo, o magari addirittura si dia allo spaccio, o magari si dia alla microcriminalità, quel ragazzo deve essere seguito, quel ragazzo deve imparare che cosa significa la responsabilità, il senso del dovere, noi dobbiamo ripristinare non soltanto la scuola dei diritti, ma anche la scuola dei doveri, quel ragazzo deve fare lavori socialmente utili, perché soltanto lavorando per la collettività, per la comunità scolastica, umiliandosi anche, e viva l'umiliazione che è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità, di fronte ai suoi compagni è lui lì che si prende la responsabilità dei propri atti e fa lavori per la collettività, da lì nasce il riscatto, da lì nasce la maturazione, da lì nasce la responsabilizzazione, insomma, io credo che noi dobbiamo seriamente predisporre un pacchetto di misure perché così, come giustamente lei diceva, non si può più andare avanti, non soltanto per il rispetto dovuto agli insegnanti, a chi lavora nelle scuole ma anche e soprattutto per il futuro dei nostri ragazzi. C'è una cosa che la prima volta che l'ho sentita come statistica mi la raccontò l'avvocato Guzzetti ai tempi era presidente di Fondazione Clare e parlava appunto dei NIT, dei NET, insomma, dei giovani che non studiano e non lavorano e io è da sempre che ho questa cosa qui nella testa poi andiamo verso la chiusura anche il ministro Valditarra deve andare a Roma per il CDM di oggi pomeriggio. Ma com'è possibile che un ragazzo non faccia niente? No, perché ai tempi miei se dicevo ai miei genitori sai che c'è non vogliono studiare e lavorare questi come minimo mi guardavano ma sei pazzo? Sei impazzito? Cioè non era previsto non era nella logica è come la mela che non cade dall'albero ma se ne va verso l'altro cioè pure qua ci troviamo questo problema lei scrive che 1,2 giovani tra i 18 e i 24 anni su 4 stiamo parlando del 25 27% non fanno niente allora mi dice qual è il problema ovviamente c'è un problema educativo e su questo vabbè non possiamo incidere per quello Stato e forse c'è un problema scolastico e forse c'è un problema lavorativo le faccio una domanda l'alternanza scuola-lavoro era un modo per cercare di avvicinare che cosa ne pensa? perché questa cosa è davvero una cosa grave ma addirittura controintuitiva si fa fatica a capirla allora partiamo innanzitutto da quel dato che vi ho trasmesso prima 1.200.000 posti di lavoro che non sono coperti per mancanza di qualifiche adeguate la scuola deve fornire qualifiche adeguate perché altrimenti quel 1.200.000 posti continueranno ad essere scoperti e quindi daranno un alibi a questi ragazzi anche dice beh io non trovo un lavoro poi c'è la necessità di come dire favorire sempre più l'adempimento di un obbligo formativo nei prossimi giorni non lo posso anticipare oggi ma lancerò una proposta che coniuga più emergenze proprio per venire incontro a questa necessità che questi ragazzi facciano qualcosa che questi ragazzi innanzitutto assolvano ad un obbligo formativo perché noi non possiamo accettare che centinaia di migliaia di giovani rimangano lì inerti non lavorano non studiano non si formano vivono alle spalle della famiglia e vivono alle spalle della società questo è uno ritengo che sia uno dei drammi più gravi che riguardano la nostra gioventù ragazzi che non hanno la voglia di vivere di costruirsi un futuro di affermarsi nella vita che galleggiano e noi lì dovremo intervenire nei prossimi giorni lanceremo una proposta concreta le faccio ultime domande diciamo così fuori sacco la prima è una magari su quel libro sì 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 assolutamente la prima cosa è riguarda i rapporti nel governo come sono come vanno ottimi devo dire ho trovato un clima di grande collaborazione perché generalmente si tagliava sempre o la scuola o la sanità un tempo cosa facciamo oggi tagliamo la sanità cosa facciamo oggi tagliamo la scuola quando c'è da recuperare risorse erano semplici dico subito che l'aver trovato 100 milioni di euro aggiuntivi non previsti precedentemente che hanno consentito di chiudere il contratto per arrivare alla famosa quota 100 credo 104 euro di aumento e chiedeva il sindacato ed era uno dei motivi dello stallo l'aver previsto l'anticipo a dicembre con uno stralcio del pagamento degli arretrati che altrimenti sarebbero andati a luglio del 2023 beh questo è stato certamente mia iniziativa ma il frutto di una collaborazione con altri membri del governo penso innanzitutto a Giancarlo Giorgetti che si è attivato per fornirmi quelle risorse che avevo chiesto quindi c'è una grande collaborazione all'interno del consiglio dei ministri c'è un clima molto sereno e si sente la consapevolezza che siamo di fronte a un momento storico dobbiamo cambiare questo paese è un libro un po' più complesso questo le radici romane della costituzione sicuramente per palati un po' più fini però è interessante perché cerca di coniugare quello che è l'esperienza di un tempo appunto le radici romane con la costituzione di oggi visto che però a me piace l'attualità perché io faccio giornalista non faccio lo storico e non faccio professore in questo momento oggi si sta provando a non cambiare la costituzione perché in costituzione è già previsto ma quantomeno abbiamo parlato stamattina con Atilio Fontana cercare di applicare la costituzione quindi l'autonomia quindi il fatto che i territori possano svilupparsi in maniera armonica e serena riprendendo l'esempio romano che aveva le province eccetera lei che cosa ne pensa di questa cosa? Ma l'esempio romano è stato un esempio in cui l'autonomia ha rappresentato uno straordinario strumento di unificazione se non ci fossero stati municipi con tutta l'autonomia connessa pensate all'inizio i municipi potevano persino battere moneta figuriamoci poi ovviamente non era concepibile e non era coordinabile con l'esistenza di uno stato unitario forte e quindi molte di quelle originarie autonomie vennero limitate però il municipio come la colonia furono due straordinari strumenti di autonomia che consentirono a popolazioni anche molto distanti per mentalità per cultura per civiltà da Roma e dal mondo latino di identificarsi in quei valori cardine in quei valori chiave di identificarsi innanzitutto nel diritto romano e nei valori che il diritto romano esprimeva e quindi lasciando libertà su tutto quello che riguardava la vita delle comunità ma pretendendo uniformità sui pilastri valoriali decisivi Roma è riuscita a conquistare milioni e milioni di persone che sono diventati cittadini romani a tutti gli effetti vi cito soltanto un dato che credo sia unico nella storia o comunque uno dei pochissimi esempi la guerra sociale cioè la guerra degli alleati fu una guerra condotta non per chiedere come in tutto il post colonizzazione no Algeria India eccetera di liberarsi dal conquistatore dal colonizzatore ci fu una guerra contro Roma per chiedere di diventare cittadini romani cioè questi popoli chiedevano di avere il diritto romano come loro diritto nazionale chiedevano facevano guerra a Roma per diventare cittadini beh vuol dire che quel modello quel modello fondato sui municipi e sulle colonie evidentemente funzionava egregiamente l'ultima domanda gliela faccio da genitore ok cioè perché io anch'io ho quel problema dei padri con le chat delle mamme che impazziscono ma riusciremo mai ad avere gli insegnanti che poi rimangono in quella classe per tutto l'anno magari anche per il ciclo non so prima o poi è il problema dei problemi questo è uno dei problemi questo è uno dei problemi che i genitori giustamente sentono in modo particolare ma non soltanto fra l'altro gli insegnanti diciamo di matematica di italiano ma anche gli insegnanti di sostegno per un ragazzo che ha dei problemi vedersi cambiare l'insegnante continuamente è un dramma soprattutto se poi arriva un insegnante che non ha alcuna formazione che magari è come dire un insegnante di diritto che si trova lì a fare insegnante di sostegno su questo voglio fare un disegno di legge voglio fare una proposta ho avviato un tavolo di lavoro proprio per cercare di risolvere uno dei temi che secondo me sono più drammatici della scuola italiana bene allora visto che sta facendo un sacco di belle cose io la vorrei impegnare diciamo così a tornare qui tra qualche mese e dirci poi che effetto ha sortito il suo operato grazie mille ministro grazie mille ministro e buon viaggio a Roma per il consiglio dei ministri per quanto riguarda noi verso mezzogiorno comincia invece il panel sull'energia c'è l'atomo c'è il sottosegretario Morelli quindi insomma abbiamo un po' di ospiti interessanti a tra poco grazie grazie a tutti